Direttore, tutti dicono che il governo non rischia, anche la Presidente del Consiglio Conte, ovviamente, ma rischia? Di fatto rischia per la semplice ragione che se non ci fosse l'accordo sulla TAV il governo salterebbe. Detto questo, come lo stesso Conte oggi ha specificato, parlare di ragion politica oltre che di ragion tecnica significa che evidentemente si immagina di chiudere un percorso in modo razionale e non volendo la fine del governo una soluzione la troveranno. Sinceramente non so quale, forse è una invocazione dello Spirito Santo, probabilmente. Nelle tensioni all'interno della maggioranza potrebbe inserirsi anche il PD di Zingaretti? Sì, ha già tentato di farlo sin dal debutto con questa visita blitz ai cantieri della TAV della Torino Lione i 5 Stelle sono una posizione scomoda, a sinistra hanno il PD che li marca Stetti, a destra hanno Salvini che mangia elettori, quindi oggettivamente è una posizione difficile. Io penso che il vero banco di prova rischia di essere ancora più delle europee, salvo verifiche sulla percentuale 5 Stelle, la formazione della prossima manovra a settembre dovrà cominciare ad essere realizzata.